Sempre la trova Qualcuno dice che sia più forte della spada di Junara Il mio TESARO Come i topi noi entriamo La serie è finita IEPA E mi è bentornato Evidentemente anche questa serie sta per volgere al termine Spero veramente con tutto il cuore che vi abbia appassionato Almeno la metà di quanto ha appassionato a me Perché mi ha fatto veramente tanto piacere il gioco Tutto il monumento La mappa fuori su pace Avrei provato a fixare l'episodio con qualche fada più forte E mi sono barricato di Aerobrine E poi vabbè uccideremo il video E le cose del caso Buona visione Praticamente mi sono barricato su quest'isoletta Perché ho creato questo percorso con tanto di acqua alla fine Per andare a prendere una delle armi del gioco Potrebbe esserci sta spada di Aerobrine Sta dannatissima spada di Aerobrine Artifact Soft Stone Ok Non è qua mi sa Perché la Soft Stone questa qui sembrerebbe essere un piccone Un piccone però molto forte In grado di penetrare anche le cose più dure Siamo sicuri che è così forte come ti dici? Oh mio Dio Ok lo ammetto In sé per sé sembra molto forte come piccone Però a noi non interessa Perché noi vogliamo tornare a casa Quindi o passiamo di qua Tramite le Enderperle Spero di riuscirci Tanto si In modo da far veloce Tornare a casa Dare una dormita veloce nel letto E andare dall'altra parte E cercarla Perché non avevo capito bene Se era di qua O di là Evidentemente era di là E sto per cadere nel vuoto Questi rischi repentini Che si prende Step E quindi devono essere evitati Provo a lanciare la Enderperla sopra Dovremmo riuscire a farcela Sì perché c'è l'acqua Mamma mia Ne abbiamo fatti veramente tanti di progressi Dall'inizio di questa serie fino ad oggi Però non ho ancora visitato Tutte le isolette Quindi vediamo Come trovare in fretta Questa dannatissima spada E poi andiamo alla ricerca Delle ultime isolette